Ma fondamentalmente sono una strategia. Salvini ha bisogno di farsi vedere, di farsi sentire. Probabilmente lui è a disagio in quella coalizione. L'ha accettata soltanto perché Giorgetti è una parte europeista della Lega che c'è. Che c'è soprattutto negli elettori del centro-nord che hanno bisogno dell'Europa, lo hanno spinto ad accettarla. Non ci crede più di tanto, però soprattutto ho l'impressione che voglia rimanere a galla molto semplicemente. Però se tira molto la corda crea dei problemi al governo. Questa è la verità. È sempre stato difficile per tutti essere partiti di lotta e di governo. Alla fine uno dei due elementi prevale e anche se è comodo stare al governo, Salvini, l'ho già detto, si sente a disagio. E comunque è nel suo temperamento esagerare con queste dichiarazioni bellicose nelle quali dice di rappresentare gli italiani. Tutto questo resta da vedere. Continuo a pensare che la maggior parte degli italiani sono abbastanza razionali da sapere che è meglio evitare qualsiasi occasione di contagio. E che quindi accettino, seppur a malincuore, anche il coprifuoco alle 22. Però se non rappresenta gli italiani, forse rappresenta una grande parte di tutte quelle categorie produttive che sono in ginocchio e che continuano ancora a manifestare in tutte le piazze italiane, no, professor Pasquino? Sì, questo è vero, Pancani. Questa è la sua osservazione e certamente è molto rilevante. Rappresenta una parte o grande parte di quel tipo di lavoratori e qui naturalmente entra in campo quella che si chiama la questione sociale. Quanti sono quei tipi di lavoratori dal punto di vista elettorale? Quanto sono organizzati? Quanto sono propensi forse anche a superare le loro obiezioni sulla concezione ideologica della Lega rispetto a questa concezione pratica di riaprire le attività? Non lo so. È una scommessa di Salvini. Io non credo che sia una scommessa vincente, però è quello che gli rimane. Non vedo altri terreni sul quale possa fare una campagna elettorale in questo periodo. Fa un po' come Renzi, no? Fa un po' come Renzi. Sì, è il Renzi del governo Draghi. Non l'ho detto io. No, 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 l'ha detto Clasavi. Allora facciamo così, è tardissimo. Vado in pubblicità, poi sentiamo subito sia Gaetano Pedulassi, Annunzio Bevilacqua. Vi porto però a proposito di proteste dalle parti...